Ok Prossima missione Ok Certo, come no Guarda, le do un lecca lecca Le do una pacca sulla testa Le dico stai buona lì E non rompere i coglioni Scoprire dove si trova Maya Ok Caccia e consuma Esatto Dove ti trovi? Là in fondo Stai per caso su quell'elicottero? Sì, sta su quell'elicottero E perché ho la sensazione Che il nostro Amico Sembra che sia su quell'elicottero No, 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 no Beccalo Preso Vieni qui, bello No, non dirmi che devo inseguirlo Porca miseria Ma porca miseria Quanto odio Ste stronzate Vabbè che noi Adesso che abbiamo Un po' di abilità nuove È easy per noi Inseguirla Sta gente, eh Però È sempre una rottura di palle Onesto Calmo Va bene che usiamo il cerchio Proprio per abbassarci La distanza Però cavolo Ecco qua Perfetto Che tanto a noi Non ci stanno neanche seguendo Non ci stanno proprio cagando minimamente Come non detto Ecco qua Ora siamo dei normalissimi civili Eccolo lì Griffin Siamo sul posto Stiamo portando il vip al sicuro Passo Appena c'è L'ho proprio fatto il pollo All'arrivo Attendete ulteriori ordini Passo Griffin Cazzo l'hanno urbato Aspettiamo Perché Mercer ce l'ha ordinato Esatto Oh guarda Il cocco del prof Lasciatelo Subito D'accordo Esattamente quello che speravo chiedessi Pezzo di merda No 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 Fermo No 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 Bello Io ora ti inseguo E tu col cazzo che scappi Stronzo Stordo Dove è finito Io intanto lo inseguo Poi vediamo Perfetto Insegui gli evoluti Recupera la gente Griffith Ok quello che dobbiamo inseguire Oh Wow No Gente sbagliata Esatto Quello lì Eh lo so Stiamo andando come cazzo di Di treni proprio Con lì tra l'altro C'ha ancora in mano Griffith Io mi immagino proprio Fermati Prego Non ce la faccio più Basta Fermati lì Bastardo Ma io non ho capito Se devo continuare a seguirlo o meno A sto punto Sì direi proprio di sì Eccoci qua Usa diversi attacchi Per sconfiggere Gli evoluti Puoi essere anche Cinque contro uno Onesto Fermo lì Ora siamo pari Aspetta che cambiamo Oh Aspetta No Allora aspetta 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 Ecco qua Mi manca ancora un attacco diverso E userei Gli artigli Perfetto Missione compiuta Ci penso io Tranquillo Ecco qua E ora Ce li mangiamo Dove l'altro Ecco fatto Grazie ragazzi Dove sei Puttanella Puttanella Voi ragazzi pensate agli elicotteri Io mangio intanto Io so dov'è tua figlia Posso permetterti di raggiungerla Oh lo farai Dicci come ti chiacchia Vi prego Non spiegate la luce Non urlerò più Giuro che non urlerò Dicci come ti chiacchia Maya Eller Signore L'abbiamo trovata No non è un trasferimento Da gentile Portatela al laboratorio Del dottor Carson E preparatela per l'operazione Oh no La vogliono infettare pure a lei Lo sapevo che avrei dovuto Parti a pezzi Vogliono infettare pure Maya E intanto i nostri ragazzi I bad boys qua dietro Capo Che dobbiamo fare Eh Eh Dicci che dobbiamo fare Capo Saliamo di livello No Dana Mi servono dati su un certo Carson Lavora nello stesso settore di Griffin Farò del mio meglio È difficile trovare notizie su quell'organizzazione E se chiedessi informazioni al colonnello Roots D'accordo lo farò D'accordo Sei al rifugio Ti devo chiedere una cosa Sì Passa pure Va bene Ragazzi Andiamo E addio all'elicottero Uh Arriva qualcuno Buono da mangiare Vieni qui tu No Eller Magnadelo Dove è finito Scendi Ecco fatto Potere aumentato Che cosa Quale potere La lama Va benissimo È sempre ben accetta E infatti ora fa un sacco di male ! Dove è finito Non Come anya Grazie.